Ad Amendolara torna anche quest'anno il premio Pagano dedicato alla memoria del giudice Umberto Pagano, presidente della Corte d'Assise di Bari e della Corte d'Appello di Lecce, originario di Amendolara. Il premio, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Cosenza, giunto alla quinta edizione e organizzato, come da tradizione, dall'Associazione per lo sviluppo dell'Alto Ionio, coordinata dal consigliere parlamentare Antonio Pagano, figlio del compianto Umberto, e dall'Istituto Comprensivo di Amendolara, guidato dalla dirigente scolastica Carmen Ambriani. Il premio Pagano, che affonda le sue radici nel concetto di legalità e il rispetto delle regole, valori cari al giudice Pagano e leitmotiv per tutte le edizioni, è ormai punto di riferimento nel panorama dei concorsi scolastici della provincia di Cosenza. Il tema di quest'anno è il linguaggio dell'odio su media e social network, conoscerlo per rifiutarlo. L'obiettivo del concorso è far riflettere gli studenti sul cosiddetto hate speech, il linguaggio dell'odio, in particolare il cyberbullismo. Il bando, con tutti i dettagli scaricabile e consultabile sul sito del comprensivo di Amendolara, scade il 6 maggio, anche se le scuole che vorranno partecipare dovranno inoltrare la scheda di adesione entro il 21 aprile. I primi tre classificati per ciascuna sezione parteciperanno, accompagnati dai docenti, ad una visita alla Camera dei Deputati a Roma con le spese della trasferta a carico dell'Associazione per lo sviluppo dell'Alto Ionio. La premiazione è prevista per il 26 di maggio. La premiazione è prevista per il 26 di maggio.